Eccoci qui, eccoci qui, video importante che vi avevo già annunciato, ben ritrovati amici rossoneri, amiche, amici rossoneri sparsi in tutto il mondo sul nostro canale YouTube dedicato al Milan, Milan Hello, vi invito sempre a iscrivervi qui e a lasciare il like qui sotto, un like di in bocca al lupo e adesso vi spiegherò perché. Ok, allora stavo per pubblicare sul nostro canale il video promesso a tutti voi su AUG con anche aneddoti, curiosità e un elogio di un ragazzo grande professionista, grande giocatore, lo pubblicherò dopo, magari nel tardo pomeriggio perché c'è una immediatezza molto più importante appunto, oggi vi ho dato il mio buongiorno con le pagelle e il video è una giornata importante perché? Perché oggi era atteso un primo risponso quasi definitivo, sottolineo quasi, su Zlatan Ibrahimovic, sulle possibilità di recupero in vista della gara ricordiamo di domenica sera contro il Parma, gara interna che dobbiamo vincere a tutti i costi per poi approcciarci al turno infrasettimanale che vedrà di fronte Inter e Napoli e Juve Atalanta, noi in trasferta col Genoa, per allungare, speriamo, o tutte in caso di pareggio o qualcuna, ecco, però ovviamente pensiamo prima al Parma, altrimenti è un ragionamento che non ci sta, dobbiamo vincere assolutamente con il Parma, con o senza Ibrahimovic? Allora, l'aggiornamento è questo, nell'allenamento che si è da poco concluso, ovviamente hanno preso parte quelli che non hanno giocato ieri sera, quelli che erano rimasti qui, Donnarumma, Celanoglu, Romagnoli, eccetera, eccetera, e quelli che erano in panchina ieri sera, non c'era Zlatan Ibrahimovic, Zlatan ha fatto ancora una volta un lavoro personalizzato. Aria ha recuperato invece pienamente in mezzo al campo Benasser, lavoro in gruppo come era nella tabella di recupero e quindi Benasser si candida domenica sera per una maglia da titolare in mezzo al campo. Non è ancora scontato che Ibra non ce la farà, ma oggi, dopo questa news, è più fuori che dentro. Attenzione, non è un discorso definitivo, perché domani c'è comunque la rifinitura, che non è un vero e proprio allenamento, e lì per forza di cose capiremo se ce la farà oppure no. Diciamo che una speranza io la coltivo ancora, ma, ragionando insieme a voi a voce alta, se non ha lavorato in gruppo, credo che sia una speranza più per la panchina che per una maglia da titolare. Lui in questi giorni ha spinto molto perché vuole giocare, voleva giocare e magari vuole giocare ancora. Lo staff medico però lo ha frenato a più riprese perché non è il caso di rischiare, vista anche l'età. E dunque vediamo come vanno avanti le prossime ore domani, giornata decisiva, e capiremo, capiremo. In questo momento però, se le chance prima erano al 50-50, siamo a livello matematico, ecco. La traduzione, non lavori in gruppo, è probabilmente non ci sei. Quindi diciamo 30-70, che non è comunque un'assoluta certezza di non avere Zlatan domenica. Io preferisco sempre averlo e tutto sommato, potesse venire in panchina, non sarebbe male. Perché all'occorrenza, eventualmente, 10-15 minuti, una palla in aria, lo butti dentro e sappiamo che lui può essere pericoloso. Dall'altra parte è vero che abbiamo recuperato Leao, anche se ieri probabilmente non l'ha forzato perché arrivava da uno stiramento. Però non mi è piaciuto molto, a parte lo strappo, l'accelerazione che ha provocato il rosso del nostro avversario. Però come atteggiamento non mi ha convinto, lo avete visto anche nelle pagelle. Detto questo, visto che ieri ha giocato Aug, tutta la partita è uscita soltanto al novantesimo, io ipotizzavo o la titolarità di Ibra, oppure Rebic è ancora numero 9 e a sinistra, magari, nei tre dietro, oltre a Sallemakers, c'erano Oglu, appunto, e Brian Diaz. Esperimento che a me non ha convinto, sinceramente, contro la Samp. Ma se ieri ha fatto giocare Aug, la spiegazione logica diventa, allora gioca Brian Diaz. Altrimenti l'avrebbe sostituito magari al cinquantesimo, al sessantesimo, l'avrebbe fatto rifiattare. Io mi sento sempre un po' più tranquillo con Aug in campo rispetto a Brian Diaz. Però è una mia osservazione, è vero che Aug quando entra in campo poi a gara in corso può fare la differenza, ma lo stesso Brian Diaz, tutto sommato, quando entra a gara in corso può avere i lampi, i guizzi, che possono fare la differenza. Vediamo, io ho una speranziella ancora di vedere Zlatan, ce l'ho, e perché no, in certi casi c'è anche la componente pretattica, ecco. È vero che non è una partita complicatissima da dentro o fuori. Mi ricordo delle pretattiche prederbi, anche dall'altra parte di Milano. Potrebbe anche darsi che lui abbia concordato con lo staff. Oggi non forzo, mi alleno ancora per i fattacci miei, personalizzato, domani rifinitura e voglio giocare domenica. Quindi non è ancora un no categorico, però rispetto al discreto cauto ottimismo degli scorsi giorni, oggi dobbiamo essere sicuramente un po' più prudenti. Sicuramente col Genoa c'è, speriamo comunque possa ancora recuperare per la gara di domenica sera. Vi dicevo di Benasera, ha lavorato in gruppo, quindi sicuramente c'è. E credo, probabilmente dall'inizio, visto che Tonali ha giocato ieri, mi aspetto che sii Benasera in mezzo al campo. Dicevamo, salemakers a destra. Brian Diaz ce l'hanno, Clurebici in avanti. Colleao che secondo me dall'inizio fa ancora un po' fatica, ma vediamo. Dietro Calabria sulla destra, Teo Hernande sulla sinistra, Romagnoli e Gabbia davanti appunto a Donnarumma, che torna tra i pali dopo la buona prova convincente finalmente di Tatarusano ieri tra i pali in Europa League. Questa è dunque la situazione. Se ci saranno altri sviluppi ovviamente torneremo a darveli in tempo reale, ma voglio ricordarvi anche, oltre alle pagelle, che più tardi ci rivediamo qui su Milanello per un video approfondimento dedicato a uno dei migliori giocatori arrivati dall'ultimo calciomercato, cioè il vichingo rosso-nero Jens Petter Auge. Numeri, considerazioni, margini di miglioramento, come, dove e perché e un retroscena che secondo me è molto, molto, molto significativo e che credo vi farà molto, molto felici. A me particolarmente ha colpito in senso ovviamente positivo. Partita da non sottovalutare con il Parma, ne parleremo sicuramente. Ogni partita, lo dico sempre, in campionato è una finale e io quindi sono già in tensione per partita nonostante manchi ovviamente qualche ora. Incrociamo ancora comunque le dita per Zlatan perché possa andare almeno in panchina. Lasciate il like se anche voi volete fare il vostro in bocca al lupo al nostro caro Zlatan Ibrahimović e iscrivetevi qui sulla bandierina rosso-nera per non perdere proprio nulla sul mondo del Milan. Più video ogni giorno in questa bella community tutta rosso-nera della prima squadra nel giro Europa League, della prima squadra in classifica, in campionato. il Milan, noi Milanello. Ciao a tutti!